Ciao, sono Miriana. Benvenuti in questa nuova puntata di Scopriamo l'Italia assieme. Con Viaggiando Italia. Quello che ti consigliamo in questa puntata, è un itinerario che potrai compiere anche in un solo giorno, si svolge in Toscana, nella zona della Val d'Orcia. Durante questa gita, potrai conoscere. Le meravigliose terme bagni San Filippo, immerse nel bosco, incastonate nella natura tranquilla della Val d'Orcia. La maestosa quercia delle Checche, vicino Pienza, che si dice abbia più di 300 anni. Il borgo di Pienza, la città ideale, patrimonio UNESCO, con stretti vicoli, piazzette per una piacevole visita. Segui il link in descrizione per scoprire di più. Iscriviti al canale. Leggi, viaggia e sii felice con viaggiandoitalia.it. A presto!